Il governatore regionale Michele Emiliano ha emanato un'ordinanza per la riapertura dei mercati merceologici, alimentari e non alimentari. Le disposizioni avranno luogo dal 18 maggio fino al 1 giugno. Questo è il punto di un percorso partecipato, ha detto Emiliano, che ha visto impegnati operatori rappresentanti di categoria sindaci e uffici regionali. Abbiamo raccordo le richieste dei commercianti in accordo con i sindaci delle varie città. Soddisfazione per il lavoro di queste attività lavorative esercitate in Puglia da oltre 15.000 ambulanti. Parliamo adesso del nostro viaggio che stiamo facendo per quanto riguarda la 12.6 edizione del premio all'interario nazionale Zingheregli. Ieri vi abbiamo proposto la prima parte dell'intervista con Lucia Campanella, autrice del libro La strada madre. Nella seconda parte dell'intervista che vi facciamo sentire adesso abbiamo parlato della violenza sulle donne. Ecco il proposito, il pensiero di Lucia.